Ehi ciao, come va? Io sono Michele e ti do il benvenuto in questo video sulla programmazione per principianti. La lezione di oggi è dedicata a quelli che sono chiamati i cicli, cioè delle istruzioni particolari. Queste istruzioni ci permettono di controllare il flusso del programma. In particolare ci permettono di ripetere delle sezioni del codice un determinato numero di volte o finché non si verifica una determinata condizione. In particolare ci sono tre tipi di cicli che andiamo subito a vedere alla lavagna. Allora, il primo tipo di ciclo che si incontra di solito è il ciclo cosiddetto ripeti, in inglese il ciclo ripit. Il ciclo ripit in pseudocodice ha questa struttura. Ripeti, blocco di codice. Quindi, questo tipo di ciclo ripeterà le istruzioni specificate nel blocco di codice finché non si verifica una certa condizione. Facciamo un esempio per mettere in pratica. Per esempio, ripeti, mangia finché hai fame. Finché la condizione di avere fame è vera, io resto all'interno del ciclo e quindi mangio finché ho fame. Le caratteristiche di questo ciclo sono che si esegue almeno una volta, il blocco di istruzioni, il blocco di codice, in questo caso mangia, si esegue sempre almeno una volta. E la condizione, se falsa, esco dal ciclo. Inoltre, non ho modo di sapere a priori quante volte eseguirò l'istruzione mangia. Non so quante volte eseguirò il ciclo, il blocco di codice presente all'interno del ciclo. No numero di volte noto a priori. Non so quante sforchettate di pasta dovrò mangiare finché ho fame. Non lo so in anticipo, io continuo a mangiare finché non mi sento sazio. Il secondo tipo di ciclo è il ciclo mentre o il ciclo while. Il ciclo while, in pseudocodice, ha questa struttura. Mentre condizione, blocco di codice. Eseguo il blocco di codice. Facciamo un esempio. Mentre ho sete, bevi. Ok. Allora, questo è il mio blocco di codice. Vediamo le caratteristiche di questo tipo di ciclo. A differenza del ciclo ripeti, non è detto che io eseguo l'istruzione bevi. Non è detto che io eseguirò il blocco di codice presente all'interno del ciclo. Quindi, non è detto che si esegua il blocco di codice. Se io non ho sete, non entro all'interno del ciclo e quindi non bevo. Se la condizione è falsa, non entro. Prima era se la condizione è falsa, allora esco dal ciclo. Anche qui, no numero di volte noto a priori. Non so quanti bicchieri d'acqua dovrò bere, ma ogni volta bevo, 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 finché la condizione ho sete non diventa falsa. A questo punto non entro più nel ciclo e proseguirò con le restanti istruzioni del programma. Infine, l'ultimo tipo di ciclo che io posso incontrare è il cosiddetto ciclo per, oppure for in inglese, che ha una sintassi di questo tipo in pseudocodice. Manteniamola azzurro. Per n volte blocco di istruzioni fine per. Benissimo, quindi andiamo a vedere, facciamo un esempio. Per tre volte batti le mani. Fine per. Vediamo le caratteristiche di questo ciclo. So è noto a priori il numero di volte. Perché in questo caso è esattamente tre. Abbiamo visto le tre tipologie di ciclo, il repeat, il while e il for, il ripeti e il mentre e il per. Ma come facciamo a scegliere quale tipologia di ciclo utilizzare nel nostro programma? Il criterio è molto semplice. La prima cosa che dobbiamo domandarci è se sappiamo in anticipo quante volte dobbiamo ciclare. Se la risposta è sì, se riusciamo a determinare in anticipo questo numero, allora andiamo senza indugi con un ciclo per, con un ciclo for. Perché è esattamente pensato per questo scopo. Io ripeto un determinato numero di istruzioni per un numero noto a priori, di volte. Se invece la risposta alla domanda so quante volte devo ripetere è no, allora vado sul mi devo fare un'ulteriore domanda perché ho la possibilità di scegliere tra un ciclo mentre e un ciclo ripeti. Allora il ciclo repeat lo sceglierò nel momento in cui so che devo eseguire il mio blocco di codice almeno una volta. Perché come abbiamo visto ci si entra sempre e la condizione, quando la condizione è falsa, allora usciamo dal ciclo. Se invece non sappiamo a priori se questo ciclo dovrà essere eseguito neanche una volta, allora dobbiamo scegliere un ciclo while. Perché il ciclo while ha già la condizione in testa e quindi subito mi chiedo se è il caso di ripetere quelle istruzioni. Nel caso la condizione sia vera entro nel ciclo ed eseguo le istruzioni che devo. Quando la condizione è falsa non le ripeto più. In questo video abbiamo visto i tre tipi di cicli a livello generico e abbiamo scritto in pseudocodice. Nel prossimo video scriveremo dei programmi in C Sharp per implementare e prendere confidenza con delle proprie righe di codice che implementano questi concetti. Se questa lezione del corso ti è piaciuta metti un mi piace, iscriviti al canale per rimanere aggiornato sull'uscita delle prossime lezioni dove appunto vedremo l'implementazione del cicli che abbiamo appena trattato.